Eleonora Daniele è distrutta per la morte di Katherine Spacca, storie italiane nella puntata di oggi 18 aprile su Rai 1, non ha nascosto la sua commozione quando si è collegata al telefono con Agnese, la sorella dell'attrice scomparsa. La puntata di oggi è stata dedicata al ricordo della Spacca che era anche cantante e conduttrice televisiva ed è morta ieri. Un grande dolore, era molto altruista e generosa, ogni volta che ascoltava le storie di donne in difficoltà mi scriveva e mi chiedeva se poteva essere utile, racconta la Daniele. Lei non mostrava questo lato di sé perché era elegante e anche in questo modo di porsi, prosegue la conduttrice. Sembrava algida ma non lo era, eravamo molto amiche, rivela in diretta. Grazie a tutti.